L'archivio della memoria della Valle dei Laghi compie due anni e in questa occasione abbiamo voluto parlare delle nuove sessioni inserite sulla home. Per chi non lo sa l'archivio della memoria della Valle dei Laghi è stato realizzato da Ecomuseo allo scopo di catalogare e mettere a disposizione di chiunque lo voglia ogni tipo di risorsa che possa documentare il passato della Valle dei Laghi. Per cui ringraziamo intanto le numerose persone, associazioni e enti che ci hanno aiutato. In questa parte dove si possono vedere le sessioni man mano che le pubblichiamo l'ultima nata è quella degli itinerari. Di questa vi voglio parlare. Abbiamo fatto alcuni itinerari che riguardano il sacro e alcuni che riguardano gli opifici. Quando noi entriamo in un itinerario appunto intanto qui c'è un breve video introduttivo che spiega un po' come abbiamo svolto il lavoro sugli opifici storici ma poi andando sull'anello si vedrà la descrizione del percorso con tutti i punti che si vanno a incontrare su quel percorso e per ogni punto si potrà con un clic raggiungere le informazioni in più che ci sono sul documento, sull'archivio della memoria. Poi si potrà vedere appunto delle approfondimenti di qualsiasi tipo, si può scaricare il pdf che riassume tutto il contenuto di questo itinerario con una mappa e con le informazioni in breve di questi punti e il gpx per poterlo utilizzare sul programma che si preferisce per seguire percorsi o addirittura andare direttamente su outdoor active dove abbiamo caricato questi programmi insomma specializzato dove si possono vedere questi percorrere questi brevi percorsi. Quello che vogliamo fare adesso e per questo ho parlato proprio di questo, stiamo lavorando a porre su Google Maps che riteniamo sia lo strumento più utilizzato dalla popolazione, questi nostri lavori. Abbiamo già inserito tutti i percorsi del sacro, stiamo inserendo ora i punti, mentre per quello degli opifici abbiamo inserito tutti i punti degli opifici storici e poi andiamo ad approfondire. Per esempio qui vediamo che questo è un mulino a Lutterini o che questo è un mulino dei Tompi o che andiamo a a Padrignone, questa è una cave antica sega di travertino. Non abbiamo ancora fatto un percorso ma quello che vogliamo fare e che andremo poi a proporre alla popolazione per il 14 maggio è un percorso che parte da Padrignone, risale la forra di Canevai, vede i mulini di Calavino, scende dal depuratore, vede i mulini di Padrignone. Questo percorso avrà un po' la struttura di quest'altro, anzi questi sono più di uno per farli anche più brevi o più lunghi, dove voi andando sul percorso avrete per primo informazioni, per esempio questo è di 5 chilometri e mezzo, dice l'altitudine, la discesa massima e minima, insomma dà delle informazioni sul percorso e poi andando su ogni punto del percorso abbiamo delle informazioni aggiuntive, per esempio se io vado qui trovo che qui c'è un mulino scomparso, poche parole, la presenza tramandata da testimonianze orali, sul luogo si trova una macina e una pietra lavorata e poi gli approfondimenti sull'archivio, per cui chi vuole approfondire va sull'archivio della memoria, viene immesso, qui abbiamo una descrizione ben più approfondita di questo mulino, abbiamo le fotografie delle tracce che sono rimaste ancora, ogni fotografia ha la sua scheda, per cui come questa, e qui ci dice anche che abbiamo un'intervista, un'audio intervista che nel tratto tra un minuto e 59, 4 minuti e 20 parla proprio di questo, per cui io volendo posso andare a vedere, a sentire questa intervista, me la vado a piazzare insomma intorno ai due minuti, posso ascoltare la signora. E mi raccontava che non era solo il mulino di a sua casa, il mulino dei Zucati che si scriveva lì, il mulino dei Zucati, a metà costa del praga era un po' di piazzare, che era una gran baracca di leni, e anche lì ma slava, il praga era solo. E così questa signora che è del 31 ci viene a raccontare non ricordi diretti suoi, perché questo mulino lei non lo ricorda, ma i ricordi della Zia che era della nata 1892, per cui possiamo andare a recuperare anche ricordi trasmessi, anche queste sono testimonianze importanti quando non abbiamo null'altro, o per arricchire quello che abbiamo, anche queste testimonianze sono importanti. Ma questo mulino scomparso, se noi ci richiamo a Vessano, per esempio abbiamo qui una fucina Morandi che è ora in disuso ma è ancora lì, vi sono conservati i vecchi macchinari, per cui anche qui abbiamo la scheda di approfondimento, vediamo come è adesso l'opificio dall'esterno, vediamo che c'è legata per esempio una foto storica del Fabro Ferraio che lavorava lì, così come vediamo altre schede collegate interessanti, per esempio cosa che è piaciuta molto ai ragazzi e ai bambini, vediamo la botte dell'ora come si vede dall'officina, perché proprio la botte con il canale di carico e con lo scarico dell'aria, la vediamo da vicino da sopra e la vediamo come si vede dalla strada, per cui dalla strada non attira l'attenzione, però sapendo che cos'è questa cosa sappiamo che cosa c'è dietro, se poi uno non sa che cosa è una botte dell'ora è un termine dialettale per cui lo andiamo a trovare sul nostro glossario, per cui se andiamo a cercare la voce botte dell'ora che è collegato, ogni volta che c'è qualcosa di dialetto c'è collegata la voce sul nostro glossario, in italiano è tromba idroeolica, c'è scritto tutto come funziona e ci sono collegate le botte dell'ora che abbiamo per il momento in archivio. Per cui abbiamo visto l'esempio di uno perduto, di uno che c'è ancora anche se inutilizzato, ma possiamo andare a vedere per esempio questo che adesso è casa privata, ora è una casa privata a Palegnameria Molino-Brogia, Palegnameria-Bassetti, è casa privata, però anche lì sono conservate diversi oggetti, diverse prove insomma di questo lavoro, poi abbiamo della famiglia anche delle foto storiche, questa è la famiglia del palegname che aveva questa attività, sappiamo che questo palegname, uno dei figli qui rappresentato, è morto poi in un campo di concentramento e qui abbiamo la lettera che lui ha scritto prima di morire insomma al fratello, per cui anche i documenti che non sono strettamente connessi con l'attività in questo caso di palegnameria, ma che sono interessanti dal punto di vista storico per approfondire altre tematiche. Qui vediamo anche che questa palegnameria si è poi trasferita a Padernione, per cui fatto il lavoro a Padernione ci sarà un collegamento fra i due schede, però abbiamo anche un'attività ancora in funzione, questa ora è il laboratorio del Rame Manzoni con commercio per cui è ancora attivo, un tempo però era molto di più, segheria, mulino, fucina, laboratorio delle ceramiche e dello scotano, qui abbiamo anche qui tutta la scheda che racconta, questa è una storia lunga, abbiamo le cartine, stralci delle cartine storiche, ma abbiamo anche per dire un giornale, le pagine di un giornale del 1929 dove ci viene presentata l'attività laboratoriale di questa premiata fabbrica delle ceramiche trentine. Insomma le tipologie di materiali che noi andiamo a inserire in archivio e che vogliamo collegare, che siano facilmente reperibili anche semplicemente da una mappa così su Google Maps, la vogliamo fare anche in questo percorso di Padernione e Rezzano, ci aiuterà alla Roda, ci aiuterà a retrospettive, però chiediamo l'aiuto di tutti voi, se avete in casa fotografie, se avete oggetti, se qualche persona ha ricordi e testimonianze di quanto succedeva, anche non dirette ma tramandate come abbiamo visto nella signora di Ciavo e ci contatta, noi saremo molto lieti di poter inserire nell'archivio della memoria queste informazioni in modo che chiunque le possa andare a ritrovare. Ecco, nell'archivio della memoria, proprio in fondo alla pagina, abbiamo la pagina che riguarda le informazioni o quella che riguarda il collaboro anche tu, dove c'è spiegato tutto quello che uno può fare per collaborare, ci sono gli orari di Ecomuseo, il numero telefonico di Ecomuseo e la mail, così come la mail dell'archivio della memoria proprio, per cui non esitate a contattarci, anche adesso se volete parlarne, qui potete vedere in anteprima che cosa vi si chiede insomma per la liberatoria, per cui la liberatoria vostra con anche tutta l'informativa sul trattamento dei dati, insomma confidiamo molto nella vostra collaborazione. Grazie mille!